La scuola di polizia penitenziaria di Fonte d'Amore non è esente dalla carenza di personale che sta mettendo a dura prova la struttura, fiore all'occhiello del territorio. Personale di efficienza unica ma troppo poco per riuscire a essere autosufficiente, commenta Mauro Nardella della Wilpa, che etichetta la struttura come un gioiello per corsisti e non. Non solo una protesta quella della Wilpa ma anche una proposta. La richiesta del segretario Wilpa sarebbe quella di un interpello a livello regionale tra gli otto penitenziari presenti per mettere così a cinque persone con molti anni di lavoro in carcere alle spalle di utilizzare la loro eventuale esperienza lavorativa presso la scuola posta alla base dell'eremo di Celestino V per ristorarsi dalle tossine accumulate in carcere. Un'idea che pure si scontra con la carenza di organico nel penitenziario come la Wilpa aveva sostenuto. Potrebbe essere però questo un modo per dare forza e tutelare un'altra struttura, fiore all'occhiello, che è quella di Fonte d'Amore.